Alessandro Ti posso fare una confidenza? Certo, dimmi Che rimanga tra noi Certo Tu ieri sei uscito con Laura, no? Sì Ma c'è pure... Certo Che sei sbagliato E il giorno prima sei uscito pure con cosa? Con chi? Con Francesca Ma c'è solo uscito con quella? Oppure con quella c'hai... Eh sì sì Tu ieri sei pure uscito con la panettiera? Con Luisa Luisa Ma che per caso pure con quella c'hai pure... C'ho pure... Sì vabbè ma dove arriva? Senti io ho un problema C'ho un problema con le donne Tu Un problema con le donne Dai mi stai più in giro Una volta arrivati a fine serata Poi non... Poi non... Non me la danno Come non te la danno? Non me la danno Appunto te volevo chiedere a te Magari che ne so Magari c'ho io C'ho qualcosa che non va Boh Perché non sei io qui Ecco Ma in che senso? Cioè... Con chi devi usci oggi? Con Valentina Allora la prima cosa devi levare sti braccialetti Che è sta roba? C'hai vent'anni Ma mica sei più ragazzino Che è? Ma che è sta roba? Ma che è sta roba? Cioè... Profumo eh Te lavi? Profumi troppo Sei troppo profumoso Te credo che ti viene appresso nessuna Alza sta scella Ma che mi hai detto? Alza Alza quell'altra Ma ci vuole Mo va bene Mo va bene Mo va bene Sti capelli? Che cazzo io fanno? L'hai tagliati Fanno schifo fanno Ma così mi riscaldarsi Più uomo Su Così Guarda te Sei un fregno sei Così va bene Posso andare a dirci E mo taglio due volte a settimana Perché ci tengo a vece proprio con la liscia Te devi il pelo sul petto Vabbè c'ho caldo La donna lo deve vedere Lo deve sentire Eh certo Ah quindi è un trombo che qui E' quello zio E' quello Fallo vede il suo cazzo di velo Ti è Eh Ce l'hai un giacchetto Un fregno da mettere sopra Qualcosa ma era di mi nonno Tipo Io lo vado Io lo vado Io vado Insomma E' questo Va bene così Vedi come hai detto Guarda Lasciami Secondo te Si Buona Secondo me senza barba a macello Dice Vai C'è il momento tuo Crediamo in te A buona Andiamo stasera Ciao a piacere Alessandro Scusa Grazie Che barba Ma chi è quel figo Dai Nico E dai Dai che prima un po' te le trovi dei ragazzi Dai Che poi prima un po' te la danno sicura Sì 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 Dai Intanto mettete un bel mi piace così si risolleva il morale Iscrivetevi al canale E anche questi che vi mettiamo in descrizione E niente C'è qualcosa da dire? Ciao Ciao Ciao